io sono l'agente 00 sis sis cavallino rosso presenta nino benvenuti ecco l'uomo che travolge gli ostacoli l'uomo che sfida il pericolo l'uomo 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 i ora di fare il bagno caro un bagno nell'acido che ti cancellerà per sempre alla nostra vita sei finito inafferrabile, sconvolgente, indomabile dagli uomini e dalle donne quando accendo la sigaretta, spara scusa se ho fatto tardi ma prima di arrivare qui da te mi hanno aggredito davvero? e come hai fatto a liberarti? con una di queste racconta semplice un colpo qui un colpo qua e un colpo là ridalla al tuo amico quando starà meglio che uomo formidabile imprevedibile esplosivo irresistibile come farà quest'uomo ad avere sempre successo? a stabilire subito una corrente di simpatia che uomo formidabile ma come fai a superare tutte le prove? sistema SIS cavallino rosso io sono l'agente 00 SIS il brandy per me il brandy per te che cavallino rosso il vecchio brandy di provata qualità